Se bazziccate il canale da un po' di tempo e avete visto alcuni miei video precedenti spesso la soluzione di alcune problematiche che si possono trovare in Windows è l'utilizzo di Power Toys, infatti Power Toys è veramente un coltellino svizzero per Windows allora quello che voglio mostrarvi in questo video è finalmente una bella panoramica di tutto ciò che vi permette di fare questo strumento Power Toys appunto che è realizzato dalla stessa Microsoft nonostante sia comunque un progetto open source è sempre aperta a migliorie e a tal proposito bisogna sempre tenere in considerazione che è un programma continuamente sviluppato, continuamente migliorato e con funzionalità implementate di volta in volta quindi questo video sarà aggiornato a giugno 2024 è facile che se lo vedete a fine del 2024 ci siano altre funzionalità e cambiamenti che però farò del mio meglio per tenere aggiornato man mano che escono quindi iniziamo dal primo passo naturalmente l'installazione per installarlo si può andare su internet ma per semplificare la vita a chiunque, agli esperti e meno esperti vi consiglio di utilizzare il Microsoft Store una volta cercato vedrete che apparirà Microsoft Power Toys, lo riconoscete da questa icona, questo logo e potete cliccare su installa oppure potete accedere per vedere un po' quello che vi offre le varie funzionalità che ci sono tramite le immagini e basterà appunto cliccare su installa per iniziare il download e l'installazione di questo tool formidabile secondo me uno strumento che chiunque vuole aumentare la produttività al massimo in Windows non può fare a meno finito il download inizierà appunto l'installazione e controllate che non ci sia questo simbolo nella barra dell'applicazione e lo scudo che dovrete cliccare per consentire l'installazione dell'applicazione quindi aprite questa finestrella e cliccate su sì in modo tale che proceda con l'installazione senza problemi una volta finita l'installazione potete chiudere il Microsoft Store e vi comparirà la finestra di Power Toys di benvenuto in questa finestra potrete avere una panoramica di ogni funzionalità di ogni strumento che c'è all'interno e per vedere come funziona ogni strumento basterà cliccare appunto a sinistra sui nomi dei rispettivi strumenti e non solo ci sarà una descrizione con le scorciatoie ma ci sarà anche un'anteprima di come funziona realmente ma non mi soffermo su questa pagina di benvenuto ma vi mostro nello specifico ogni strumento e le funzionalità che offre ognuna di queste cose ora vi ritroverete in basso a destra l'icona di Power Toys e insieme a Power Toys ci sarà anche questa tazza di caffè infatti questo è il Power Toys Awake si chiama che è una funzione che tra poco andremo a vedere per ora lasciamola lì apriamo Power Toys facciamo un doppio clic e iniziamo a vedere la dashboard per vedere tutte le funzionalità che ci sono attive infatti tutte le funzioni che vedete qua con il pulsante attivo sono funzionalità attualmente abilitate se scendete ci sono moduli disabilitati e vedete che questi sono disattivati adesso io procedo ad attivare tutti quanti così che vedrete come funziona ognuno di questi come con la schermata di benvenuto qua potete avere già un'idea di cosa fa ognuna di queste cose e anche le scorciatoie da tastiera per raggiungere le impostazioni vi basterà scorrere a sinistra tra le varie voci nella schermata generale potrete modificare le impostazioni di Power Toys stessa non delle funzionalità singole ma di Power Toys proprio infatti potete vedere che c'è la verifica degli aggiornamenti nonché potete anche vedere le note su ogni versione quindi cosa c'è stato di nuovo e di modificato una modalità amministratore che nel caso vogliate capire e sapere il perché vorreste avviare Power Toys come amministratore potete cliccare su altre informazioni sulla modalità amministratore possiamo vedere quali strumenti possono aver bisogno dell'esecuzione tramite privilegi di amministratore se non avviate Power Toys come amministratore comunque queste cose potrete modificarle abilitarle singolarmente man mano che le attivate o le utilizzate ma procediamo a vedere il resto abbiamo ovviamente la modifica del tema quindi lasciare il tema come impostazione predefinita di Windows chiaro o scuro potete scegliere se eseguire all'avvio Power Toys attivandolo tramite il pulsante come di consueto potete anche eseguire il backup e il ripristino delle impostazioni di Power Toys quindi se personalizzate ogni utilità, ogni strumento di Power Toys in maniera particolare quando dovete fare dei passaggi su altri computer o avete più computer e non volete rifare manualmente tutto potete effettuare il backup e il ripristino su questi altri computer infine l'ultima opzione è consentire la sperimentazione con nuove funzionalità quindi se volete permettere a Power Toys di abilitare anche delle funzionalità nuove e sperimentali non ufficialmente rilasciate iniziamo dal primo strumento che è incolla avanzato questo strumento permette di copiare il testo e incollarlo in formati diversi dal testo normale o viceversa se copiate un testo magari in HTML potete convertirlo in testo normale semplice in ogni strumento vedrete che c'è abilità e il nome dello strumento e per attivarlo e disattivarlo basterà cliccare sul pulsante non sto qui a spiegarlo su ognuno di questi perché saranno tutti uguali quindi il primo pulsante e la prima opzione che ci sarà sarà sempre quella di attivazione tra le novità che ci sono state di recente in Power Toys c'è proprio questo incolla avanzato che permette anche di incollare con l'intelligenza artificiale potete abilitare questo incolla del testo tramite l'utilizzo di ChatGPT ma per farlo avete bisogno di una chiave API che ovviamente è a pagamento quindi non sto qui ad abilitarlo a farlo perché comunque non ce l'ho e non mi interessa lo scopo per utilizzare l'intelligenza artificiale che appunto a maggior ragione potete incollare qualcosa che avete copiato in maniera che ve lo formati in una maniera specifica che ve lo formati e ve lo prepari già come vorreste averlo voi finito diciamo andando poco più sotto trovate cronologia appunti che attualmente è disattivato ma potete abilitarlo sia da qua sia anche manualmente voi infatti questa è una funzionalità del sistema operativo che Power Toys vi permette di abilitarla anche dalla loro interfaccia ma se voleste utilizzare una cronologia degli appunti dal sistema operativo senza Power Toys potete attivarla tramite la scorciatoia di Windows WinV schiacciandola vedrete che vi appare questa finestrella degli appunti e vi dirà attive la cronologia appunti per copiare e visualizzare più elementi potete cliccare su attiva ed ora ogni cosa che copiate ve la salverà all'interno di questa cronologia qui adesso non si è aggiornato ma se andiamo qua e torniamo vedrete che cronologia appunti adesso risulta attiva poco più sotto troviamo le scorciatoie da tastiera da utilizzare che possono essere personalizzate cliccando sulla matita ma se non volete personalizzare per ogni singola funzione potete aprire il pannello principale con tutte le opzioni tramite la scorciatoia Windows Shift e V vi apparirà questa schermata dove potrete incollare come testo normale, come Markdown o come JSON infine cliccando su cronologia appunti ci sarà anche la cronologia delle cose che avete copiato ad esempio se torniamo nella pagina di Power Toys dei privilegi amministrativi io posso fare un copia di questo, posso fare un altro copia di questo, un altro copia di questo e ora tramite la mia scorciatoia nella cronologia appunti vedrete che ora ho queste versioni incollate se apro il blocco note e provo a incollarlo tramite questo strumento se incollo come testo normale l'ultima cosa che ho copiato è questa qua se lo incollo ad esempio come JSON vedrete che mi inserisce tutto tramite una formattazione JSON appunto se aveste l'intelligenza artificiale abilitata potrete dirgli in che altri modi convertirlo così che effettivamente lo incollate senza problemi nel formato che volete andiamo avanti al secondo che è Always On Top per abilitare questo la scorciatoia automatica è Win Control T questa è una funzionalità che uso spessissimo perché ci permette di aprire ancora il blocco note ad esempio vogliamo tenerlo qua ma se dobbiamo prendere qualcosa e incollarlo qui ogni volta ci andrà dietro al programma selezionato se invece utilizziamo la scorciatoia Always On Top quindi Control Win T ecco che apparirà questo bordo per dirci che attualmente questo è fissato sopra tutte le altre finestre infatti adesso se seleziono questa finestra qua di Power Toys comunque non mi nasconderà più questa stessa cosa se apro altri programmi rimarrà sempre in primo piano questo programma qui per disattivarlo stessa scorciatoia Control Win T e adesso tornerà tutto uguale a prima sotto ci sarà una spunta di non attivare quando modalità gioco è attivo quindi per sbaglio se utilizzate la tastiera e fate questa combinazione non rischiate che vi compaia qualche finestra in sovrimpressione mentre giocate poco più sotto potete modificare l'aspetto e il comportamento quindi ancora con il nostro blocco note se lo mettiamo in primo piano possiamo modificare anche qua la modalità del colore se volete qualcosa di personalizzato scegliete colore personalizzato e lo modificate come lo volete voi e potete scegliere l'opacità potete renderlo anche semitrasparente se volete così come scegliere lo spessore se vi sembra un po' troppo grosso che a me personalmente non mi piace tantissimo così grosso preferisco qualcosa di un pochettino più sottile posso riconoscerlo comunque tramite il bordo accentuato con il colore infine c'è abilità angoli arrotondati che come vedete segue gli angoli arrotondati se lo disattivate diventa un quadrato a tutti gli effetti senza l'arrotondamento degli angoli oltre questo quando viene attivato e disattivato c'è un suono che viene emesso potete scegliere anche questo se attivarlo o disattivarlo quindi adesso posso attivare e disattivare e non ci sarà nessun suono ultima casella è l'esclusione di applicazioni dall'aggiunta in alto se non volete rischiare per qualche ragione che delle applicazioni non compaiano davanti ad altre potete inserirle in questa lista così che non funziona questo strumento passiamo al prossimo che è tradotto in attivo ma sarebbe awake quello che vi dicevo poco fa che potete trovare in basso a destra qua in power toes awake questo strumento vi permette di bypassare momentaneamente le impostazioni di risparmio energetico del vostro computer infatti cliccando su questa icona che trovate in basso di power toes awake potrete scegliere se mantenere attivo il computer in base all'intervallo quindi 30 minuti 1 ora 2 ore o mantenerlo attivo illimitatamente quindi il vostro computer non andrà mai in sospensione oppure non andrà in sospensione solo per un intervallo in base all'impostazione che preferite inoltre c'è anche l'impostazione se volete mantenere sempre lo schermo attivo a prescindere dallo stato di sospensione questa funzionalità è abbastanza semplice e autoesplicativa se già di vostro avete un'impostazione del computer di risparmio energetico che non va mai in sospensione non viene spento mai lo schermo questo strumento potete anche disattivarlo perché non vi servirà strumento successivo è selezione colori questo è uno strumento perfetto per chi si occupa di grafica per chi lavora con i disegni chi lavora con appunto programmi grafici in quanto permette di poter selezionare i colori ovunque dallo schermo per abilitarlo bisogna utilizzare la scorciatoia windows shift c e vedrete che il mouse ora avrà un color picker che ovunque andrò mi prenderà esattamente il colore che c'è a schermo una volta scelto il colore ad esempio voglio vedere che colore è questo qua utilizzato in power toys clicco e mi apparirà una finestrella con tutti i codici sia decimali che rgb che hsl non solo mi permette di vedere i codici ma mi permette anche di vedere delle varianti di questo colore infatti vedete che qui a sinistra ci sono anche colori in base appunto a quello che ho selezionato quindi potete crearvi anche un po' una palette grafica diciamo questo comportamento lo potete scegliere qui sotto in comportamento di attivazione seleziona un colore e aprire l'editor oppure potete fare seleziona solo un colore quindi vi copia negli appunti quel colore oppure potete aprire solo l'editor più sotto ancora potete scegliere il colore predefinito che copierà negli appunti vedete che ci sono varie impostazioni non soltanto quelle che si vedevano lì nella schermata perché ancora più sotto come vedete qui potete abilitare quelli che vi servono quindi se vi interessa l'HSV o il CMYK che è più ideale per la stampa potete abilitarlo così che adesso quando selezionate un colore tra le opzioni ci sarà anche il CMYK e questa era la selezione colori andiamo al prossimo strumento che si chiama comando non trovato e questo è un modulo specifico per PowerShell quindi questo serve più per i programmatori per chi utilizza PowerShell come vedete è un modulo da installare e che necessita prima di tutto PowerShell 7.4 o successivo è anche il modulo Winget la comodità di questo strumento è che quando voi utilizzate Winget in PowerShell vi suggerirà dei pacchetti che se vi dà un errore perché il vostro Winget è errato vi dirà guarda che forse volevi questo pacchetto oppure c'è questo pacchetto che potrebbe essere quello più adatto a quello che cercavi andiamo al prossimo chiamato ritaglia e blocca che è molto particolare infatti se facciamo Win Ctrl Shift T vedrete che abbiamo questa finestra selezionata e possiamo ritagliare questo pezzo così da avere un ritaglio di quello che avevamo nell'applicazione se utilizziamo invece la seconda scorciatoia che è Windows Ctrl Shift R è una funzione sperimentale e questo permetterà di non solo crearvi l'anteprima ma proprio di mettervi il programma nella schermata qua infatti vedete che funziona ma è ritagliata questa volta ma continua a funzionare così è una funzione un po' particolare onestamente non so bene a cosa potrebbe servire creare delle finestre con dei pezzi di un programma sia utilizzandolo sia soltanto come anteprima se voi lo utilizzate per qualche motivo fatemelo sapere che sarei davvero curioso di capire meglio come funziona e il perché dovrebbe servire uno strumento simile passando al prossimo si parla delle variabili di ambiente ovviamente si torna ancora un po' in ambito programmazione in chi utilizza il terminale il command prompt o powershell quello che vi permette di fare questo strumento è avere una finestra rapida dalla quale aprire e gestire le variabili appunto di ambiente cliccando sull'apertura vedrete che chiederà di consentire all'applicazione di apportare modifiche clicchiamo su sì e ci ritroveremo con questa finestra nella quale appunto possiamo gestire le nostre variabili d'ambiente non sto qui a spiegarvi cosa sono e a cosa servono perché se vi servisse questa funzionalità allora sapete anche cosa sono le variabili di ambiente se non sapete a cosa servono e che cosa sono disattivatelo pure che sicuramente non vi serve fancy zones invece è uno strumento per potenziare la gestione delle finestre all'interno del desktop quindi con windows 11 ci sono già dei layout che possono essere utilizzati ma con fancy zones diventano un po' sottosteroidi questi layout infatti possiamo vedere che possiamo avviare un editor di layout che cliccando potremo modificare come vogliamo noi possiamo anche creare dei layout personalizzati scegliere una griglia o un'area di disegno cliccare su crea qui ci saranno alcune scorciatoie che vi consiglieranno per poter modificare e utilizzare appunto questo layout e con il più possiamo aggiungere delle finestre ulteriori per disporre il nostro layout quindi potete veramente disporle come preferite voi in qualsiasi maniera ed infine salvarla per qualche ragione se per qualche foglia avete bisogno di un layout simile adesso ce l'avete potete ovviamente anche eliminarle cliccando sulla matita e poi sul cestino elimina ed ecco fatto che avete eliminato il layout inutile questo è uno strumento formidabile se siete delle persone che utilizzano tante applicazioni spesso che hanno bisogno di gestire più applicazioni contemporaneamente vogliono disporle in maniera automatica ma anche efficace nel caso avete più schermi vi chiede dove avviare l'editor del layout quindi se farlo nella posizione del puntatore del mouse oppure se farlo dove c'è qualcosa di attivo questo potete attivarlo con windows shift e la ho accentata poco più sotto abbiamo le zone e potete impostare il loro comportamento principalmente sono tutte cose che servono per modificare l'editing delle zone non sto qui a spiegarvele perché comunque sono abbastanza autoesplicative potete modificare l'aspetto di queste zone che state modificando e poco più sotto potete gestire anche il comportamento delle finestre quando utilizzate appunto fancy zones quando utilizzate questa metodologia di layout anche qua sono tante impostazioni, tante opzioni che non sto qui a spiegarvi una duna sono anche queste molto autoesplicative non serve che sto qui a ripetervele e se andiamo in fondo anche qua troviamo che possiamo escludere le applicazioni da fancy zone la prossima impostazione l'ho già affrontata in un altro video che è componenti aggiuntivi di esplora file infatti questa sezione l'ho mostrata spiegando come poter avere le anteprime dei file all'interno di esplora file ed è proprio quello che fa questo strumento o questa implementazione perché alla fine non è uno strumento che si va ad abilitare o disabilitare semplicemente potete scegliere quali anteprime visualizzare o meno in esplora file ad esempio qua vedete che ci sono le svg, txt, markdown qua abbiamo un pdf che possiamo abilitare abbiamo un codice geometrico che alla fine nel video originale non sapevo cosa fosse poi con la vita si imparano sempre cose nuove infatti ho scoperto che vengono utilizzati spesso e principalmente per effettuare le stampe con le stampanti 3D nel caso qualcuno di voi se lo stesse chiedendo come io me lo son chiesto quando ho realizzato il video originale quindi ci sono le due sezioni la prima è per vedere appunto le anteprime nel riquadro di anteprima che si apre tramite questo pulsante dettagli questo è il riquadro di anteprima se andiamo invece più sotto vediamo invece proprio l'anteprima dell'icona cioè se vogliamo che il file abbia come icona l'anteprima e anche qui vedete che c'è pdf disattivato si può abilitare se volete maggiori informazioni poi per le icone e per le anteprime dei file vi consiglio di andare a vedere il video a riguardo dove spiego effettivamente come poter avere al meglio qualsiasi file con la propria anteprima anche video, immagini, disegni, qualsiasi cosa scendiamo più sotto e andiamo al prossimo blocco file spesso non si riesce a cancellare un file o a sbloccare una chiavetta per qualsiasi ragione allora questo strumento è perfetto per capire la ragione perché infatti ci permette di vedere tramite questo blocco file se prendiamo un file a caso proprio andiamo in programmi per dire clicchiamo con il destro su un file trovate tra le voci unlock with file locksmith che cliccando vi aprirà questa finestrella chiamata blocco file appunto purtroppo con le traduzioni come avete visto PowerToys è un po' incerta ancora e nel caso non riuscite a cancellare un file qui verranno mostrati i programmi che lo tengono occupato il file e se non vedete niente ma non riuscite comunque a cancellare il file vi basterà cliccare in alto qui a destra dove c'è questo scudo che serve per riavviare come amministratore come potete leggere qui potete consentire all'app di apportare modifiche cliccate su sì e la nuova finestra che apparirà vi mostrerà effettivamente dei processi che ci sono e che tengono occupato il file o il programma che non riuscite a cancellare adesso io ne ho preso uno a caso non mi compare niente però se vi appare qualche processo in corso potrete anche cliccare per terminare quel processo e sbloccare il file così da permettervi di cancellarlo qui sotto integrazione shell vi dice soltanto dove volete mostrare questo sblocco del file menu di scelta rapida predefinito ed esteso oppure solo quello esteso che sarebbe questo è il predefinito mentre questo esteso quello vecchio viene chiamato menu di scelta rapida esteso la voce successiva è l'editor dei file dei host anche questo ho realizzato un video a riguardo e praticamente permette di modificare i file host senza andare a cercarlo nei meandri di windows quindi vi basterà cliccare su avvia l'editor dei file host dovrete cliccare su sì per consentire sempre alla modifica e ci sarà un avviso attenzione la modifica dei file host influisce sul modo in cui il computer risolve il nome dei domini cliccate su accetta e qui inserite tutte le vostre informazioni che volete per modificare il file host questa è un'altra cosa che se non sapete cos'è il file host uno potete andare a vedere il video che ho fatto a riguardo due è meglio che non lo toccate se appunto non vi serve e non sapete cosa state facendo qui sotto potete scegliere se mostrare l'avviso che abbiamo visto poco fa e se eseguirlo come amministratore e altre impostazioni come la codifica e considerare indirizzi in loopback come duplicati anche qua non sto a spiegarvi tutti i dettagli tecnici che se no non finiamo più si sta diventando già troppo lungo questo video passiamo al prossimo che è il ridimensionamento immagini questo strumento come si può intuire dal nome serve per ridimensionare le immagini sotto potete scegliere delle impostazioni predefinite che volete utilizzare ancora più in basso la codifica quindi se farlo in jpeg, png, bmp insomma vari formati il livello di qualità del jpeg nel caso lo fate in jpeg l'interlacciamento png in caso del png così come la compressione tif nel caso volete fare la conversione tif potete scegliere il formato del nome del file così anche come il timestamp per utilizzarlo semplicissimo basterà andare nella nostra immagine cliccare con il destro e troverete ridimensiona con ridimensionamento immagini vi aprirà la finestra, qui scegliete uno dei preset che volete e che avete configurato in Power Toys altrimenti potete fare anche personalizzato con le varie impostazioni che ci sono sia qua sotto sia anche qui delle dimensioni e una volta fatto basta cliccare ridimensiona ed è finito passando a gestione tastiera questo vi permette di fare un mapping appunto della tastiera cliccando in modifica il mapping di un tasto facendo questo potete aggiungere una nuova mappatura selezionate il tasto che volete ad esempio A e potete fare in modo che vi dia qualcos'altro quello che io personalmente utilizzo è il mapping di un tasto di scelta rapida quindi aggiungo una nuova mappatura del tasto facendo tasto di scelta rapida ad esempio faccio questa combinazione e poi faccio inviatest in modo tale che facendo una combinazione mi mette in automatico Hello ad esempio così facendo OK vedete che qui adesso mi è comparso andando nel blocco notte con questa scorciatoia mi scrive Hello in automatico per eliminarlo basta aprire nuovamente questa finestra e cliccare sul cestino andando in utilità mouse potrete avere varie funzioni appunto con il cursore ad esempio premendo due volte control velocemente vi evidenzierà il vostro cursore potete modificare anche come attivarlo cliccando sul metodo di attivazione quindi c'è premere due volte control sinistra o destra oppure scuotere il mouse un po' come con il Mac che scutendo si ingrandisce questo ve lo evidenzia oppure dei tasti di scelta rapida anche qui se è attiva la modalità gioco non deve essere attivato e potete modificare anche l'aspetto e il comportamento quindi potete regolare l'opacità vedete che è di meno oppure è di più diventa praticamente nero così come anche il colore di sfondo il colore in evidenza il raggio quindi se volete che sia più grande questo cerchiolino potete modificarlo così stessa cosa zoom iniziale e durata di animazione anche qui potete escludere le applicazioni e poi c'è un'altra funzione per il mouse che è l'evidenziatore premendo Windows Shift H sembra che non succede niente ma vedrete che quando clicco adesso mi evidenzia il mio click anche qui naturalmente potete modificare il comportamento ad esempio volete modificarlo in rosso volete farlo diventare 200 boom ecco qua il vostro cerchiolone ritardo di dissolvenza e durata di dissolvenza e abbiamo il passaggio del mouse che serve per muovere più rapidamente il mouse e premendo Win Shift D vi apparirà questa finestrella in modo tale da poter interagire con lo schermo in maniera più veloce in una zona più ristretta senza dover passare da un lato all'altro del computer provandola non funziona correttamente penso che sia per il livello di scalatura che ho in Windows probabilmente c'è qualche bug al riguardo ma se lo provate voi ad esempio se cliccate qua sulla X della finestra non ha funzionato ma ve l'ha evidenziata però ve la dovrebbe chiudere l'ultima opzione è sempre per il mouse è il mirino del puntatore che premendo Win Alt e P avrete un mirino per sparare a Windows anche questo non so bene a cosa vi possa servire però fatemelo sapere nei commenti sono curioso di sapere perché dovrebbe servirvi questo strumento passiamo al mouse senza bordi che è una funzionalità molto comoda e utile se utilizzate più computer insieme infatti come vedete dall'immagine con questa funzione potrete passare da un computer all'altro spostandovi sui bordi dello schermo indubbiamente comodo appunto se utilizzate più computer contemporaneamente se avete magari un portatile accanto al vostro desktop e volete passare da uno all'altro senza troppa fatica andando più sotto come vedete ci sono varie impostazioni con ognuna di queste la spiegazione specifica sono tantissime non sto qui appunto nel dettaglio perché è comunque una funzionalità magari non per tutti anteprima rapida è un bel richiamo a Mac OS infatti se andiamo ancora ad esempio nelle nostre immagini premendo CTRL spazio vi apparirà l'anteprima del file in maniera più grande se è un PDF ad esempio riuscite a vederlo meglio adesso vabbè questa è un'icona piccolina nulla di particolare però questo serve per aprire il file senza aprire proprio tutto il programma cioè averne appunto un'anteprima rapida potete modificare il tasto di scelta rapida qui altre impostazioni sul comportamento sui privilegi elevati piuttosto che chiudere automaticamente la finestra quando cliccate fuori da questa finestra ed in fondo vi chiede come visualizzare l'anteprima di file di codici sorgenti la funzione Power Rename anche questa è attivabile tramite il clic destro sui file potete scegliere se mostrarlo nel menu normale nuovo di Windows 11 oppure in quello esteso le impostazioni non ce ne sono molte in particolare quello che cambia è se utilizzati i codici regex potete utilizzare la libreria Boost e quello che vi permette di fare appunto è fare delle modifiche ad esempio io copio tante di questi qua e selezionandoli tutti col clic destro posso cliccare su rinomina con Power Rename e nella finestra posso impostare e modificare in base a come li voglio rinominare ad esempio qui adesso ho tutti questi file io posso cercare per dire spazio trattino spazio copia e vedete che mi mostra l'anteprima io adesso questo copia lo sostituisco con vuoto con il nulla vedete che mi modificherà tutti quelli con il copia me li modificherà in nomi singoli oppure posso dire nuova copia e vedrete che me lo modifica in nuova copia adesso ho tolto lo spazio quindi faccio spazio trattino spazio invece di copia è nuova copia serve per modificare in maniera massiva i file poi se conoscete un po' di regex un po' di espressioni regolari sicuramente molto più potente riuscite a fare molte più cose poi abbiamo Power Toys Run anche questo un richiamo a macOS che premendo alt spazio vi apparirà questo dal quale potrete un po' fare dei calcoli oppure aprire dei programmi ad esempio se cerco Edge qua mi dà l'applicazione Edge oppure cerco google.com come vedete mi apre il browser google.com è un modo per avviare quello che volete cercare o fare calcoli insomma un posto dove avviare qualsiasi cosa avete bisogno e in automatico vi darà consigli pertinenti a quello che potrebbe esservi utile fare qua ci sono molte impostazioni riguardo che non ritengo servano veramente da toccare per utilizzare questa funzionalità così vi consiglio di non toccarli ma se volete darci un'occhiata qui in fondo sono le parti che potrebbero interessarvi di più che volete attivare dei plugin piuttosto che volete personalizzare appunto la posizione o l'aspetto la funzionalità Quick Accent l'ho affrontata anche questa in un altro video sugli accenti che se vi siete interessati a capire meglio come funziona vi rimando a quel video ma quello che vi permette di fare è appunto tramite un tasto di attivazione che è sinistra e destra lo spazio io lo uso come sinistra e destra perché quando digito lo spazio ci scappa magari in più e quindi mi appare la finestrella quello che vi permette di fare semplicemente è premendo un tasto che può essere accentato lo premete utilizzate una freccia ed ecco che vi appare in alto tutta la barra di come volete accentare questa lettera ci sono tanti caratteri che magari non vi servono allora quello che dovete fare semplicemente è andare nel scegli un set di caratteri invece che tutti disponibili selezionate solo italiano così adesso quando digito la mia A quella mia freccia mi darà solo questa A se digito una E accentata invece qua mi dà il simbolo dell'euro l'E accentata grave o non grave e il simbolo qua che non mi ricordo come si chiama però ecco sono simboli utilizzati nella lingua italiana sotto ci sono altre impostazioni come appunto vedere il codice unico ad ordinare i caratteri anche qua potete tranquillamente leggere e capire cosa vi serve anche qui le apre escluse non ritengo ci sia nulla da approfondire se non leggere quello che appunto viene già spiegato abbastanza chiaramente abbiamo poi l'anteprima del registro di sistema questo vi permette di analizzare i file reg quelli che vanno a modificare il registro di sistema e vi mostra appunto le chiavi che va a generare le modifiche che va ad effettuare al vostro registro se cliccate avvia l'anteprima qui potrete inserire il vostro file reg e vedere tutto quanto quello che vi fa altrimenti potete anche aprire l'editor del registro di sistema cliccando su sì così che vi apre il tradizionale registro di sistema potete anche impostarla come applicazione predefinita quando dovete aprire dei file reg poi abbiamo lo screen ruler che è attivabile tramite win shift m e tramite questa attivazione in alto vi comparirà questo pannellino dal quale potrete scegliere limiti, spaziatura spaziatura orizzontale, spaziatura verticale a cosa servono? come appunto è chiamato screen ruler serve proprio per misurare come vedete con il mouse io in base a dove passo mi misura la distanza tra le cose potete fare appunto anche un rettangolo di selezione così che vedete quanti pixel è il rettangolo che state selezionando oppure anche l'orizzontale e verticale insieme che vi misura esattamente appunto la larghezza e l'altezza in pixel invece di farli singolarmente orizzontale e verticale potete scegliere lo stile di misura predefinito nel comportamento anche qui impostazioni che potete leggere per capire meglio cosa fa la tolleranza in pixel così anche ovviamente come modificare il colore della linea se volete abbiamo poi la guida ai tasti di scelta rapida e questo ci permette di vedere le scorciatoie che possiamo utilizzare all'interno di Windows ad esempio vedete che qua ci sono delle lettere tutte queste lettere, questi tasti che sono da premere sono da premere insieme al tasto di Windows il tasto Win quindi ad esempio se vogliamo aprire il file explorer se premiamo Win E vedrete che ci apre il file explorer non mi ricordo qual era la scorciatoia per aprire le impostazioni apro, cerco settings, open settings e la I piuttosto che minimizzare tutte le finestre insomma tutte le scorciatoie di Windows più utilizzate e utili potete trovarle grazie a questa schermata qua le modifiche di questo strumento sono minime infatti c'è il tema e l'opacità di sfondo così come l'esclusione delle app andando verso la fine abbiamo text extractor che permette di prendere una schermata quindi con Win Shift T possiamo ritagliare questo pezzo ad esempio e facendo questo andiamo e incolliamo in automatico rileva cosa c'era scritto nello screen che abbiamo preso quindi può essere un'immagine può essere una foto qualsiasi cosa riuscirà a rilevarlo e a tradurcelo in testo che poi può essere incollato oltre a modificare la scorciatoia qua potrete scegliere la lingua preferita e arrivando finalmente all'ultima funzione c'è la disattivazione conferenza video che in realtà come leggete sta passando alla modalità legacy solo manutenzione ma come potete leggere serviva per disattivare video e audio in un posto unico cosa che adesso comunque potete fare tramite Windows e adesso giunti al termine l'ultima cosa che volevo mostrarvi di Power Toys è che cliccando sull'icona di Power Toys vi aprirà un accesso rapido delle cose che potreste aver bisogno quindi tutte le finestre che si aprivano ad esempio Fancy Zones, le variabili, il Power Toys Run, l'editor, host tutte queste funzioni potrete accedere da qua senza per forza le scorciatoie e andando in altro potrete scegliere da qua direttamente cosa attivare o disattivare tra le varie impostazioni quindi non dovete per forza aprire questa finestra di Power Toys e andare nella dashboard per attivare o disattivare le funzioni ma vi basterà andare qui in Power Toys e vedere in un elenco unico tutte le funzionalità e attivare e disattivare quelle che vi interessano o non vi interessano spero sia stato chiaro è stato sicuramente un video lunghissimo c'era tantissimo da dire ma finalmente era da tanto che volevo fare questo video perché Power Toys lo ritengo uno dei programmi indispensabili per massimizzare la produttività in Windows per essere veloci, efficienti e avere veramente Windows sotto steroidi se avete richieste su altri video o avete domande o dubbi scrivetelo nei commenti farò del mio meglio per aiutarvi io vi ringrazio di essere passati e ci vediamo alla prossima ciao ciao